good morning si qui sono praticamente alle 11 e con io in questi casi certo non proprio una mattina prestissimo mattina da notte lato ma comunque mattina mister master maestro o semplicemente o semplicemente david si david perché non david david lince it's june 15 so it's really the half of june 2022 and it's it's wednesday sorry here ho fatto un errore ho detto che era wednesday ovviamente era tuesday and here in naples a clear morning this moment where is today right now at 24 and 25 and at around 29 this means that it's really 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 soft like this in this period and also over because it seems more a summer climate and spring limit l'altra parte ormai tra poco e sarà estate quindi questo anche più normale as riccardo dei video tots I don't know if I do it but in the case if I do it it's always separate from this so I open if you're interested anyway as you and you all just see from the green roll air shooter you can see anything e quindi già sapete perché c'è la green roll air shooter comunque ve lo dico io I think that it's after noon atmosphere come quasi sempre in estate potrebbe quasi certamente salire but the really important thing with this atmosphere comunque ormai è il presente pomeriggio e dico così is it that today we have today we have those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful those beautiful beautiful blue sky and golden sunshine and I think all along the way ovviamente all along the way qui sempre meno ore intendo soprattutto pensando agli amici americani perché abbiamo un orario come sapete ovviamente è diverso bene speriamo di continuare così in questo trete anche domani per cui so from the mythical wind with the orange red brewing water curtain behind me this day and it's green roller shooter green roller shooter in Armenian in this days in quasi tutta l'estate and finally from mythical keyboard yamadi gx 640 ipg ipg 625 eh voi grazie dei immoldi people volvo da channel reports un saluto davvero a tutti indolso io la farò tra poco il mio stomaco bruntola come sempre non so se lo so ma soprattutto spero possiate consolarvi la vostra bella colazione se il tempo che si è brutto dalle vostre parti non che come ripeto sempre non ci consoliamo sempre anzi tra l'altro le due frasi consolazione e colazione si è detta in italiano due parole scusa fanno anche rima ma io quando il tempo è brutto personalmente lo so perché mi consola ancora di più I'll see you in the video two setting of yesterday perché in realtà ho dimenticato di precisare che metto quello di ieri oggi ma comunque in generale non credo di avere cose da pensare sì or tomorrow or tomorrow